Francesco Somaini è una figura di artista molto complessa e anche molto particolare rispetto al panorama della critica dell'arte e del panorama della scultura o degli scultori sia italiani che europei. Perché? Perché, e questo è proprio il tema centrale di questa mostra, a un certo punto della sua vita, nel passaggio dagli anni 50 agli anni 60, lui ha avvertito sempre più forte l'esigenza di mettere a fuoco una funzione sociale della scultura, di ripudiare e rinunciare all'idea della scultura come oggetto di un'alleria o anche come semplice arredo urbano e invece assegnare alla scultura una funzione quasi eroica facendosi in un certo senso anche architetto.